Ok, allora buonasera a tutti, benvenuti, siamo in via del tutto eccezionale in questo parco estivo qui a Digilandia, fatto sempre il nostro amico Michelangelo e il scopo di questo incontro sarà quello di farvi vedere le animazioni. Ok, quindi per animazioni Priscilla mi senti? Su zoom, nel caso ctrl v, ok, mettiamo anche qua il zoom. Mi confermate tutti che mi sentite, giusto? Ok, comunque nel caso se non mi sentiste o se qualcuno ci sarà comunque la registrazione che stiamo facendo. Quindi cominciamo ad andare per ordine. Allora, beh, prima volevo solo descrivervi una cosa. Le animazioni che andiamo a vedere stasera sono un qualche cosa di... Sono un qualche cosa che qualcuno di voi si chiederà che cosa servono praticamente, perché abbiamo bisogno delle animazioni. Dunque, le animazioni servono per due scopi fondamentali. Uno è per il... riuscire a fare anche delle... Ah, perfetto, Michele Corro ci abbanno... Dunque, le animazioni servono per ottenere le animazioni di oggetti, tipo ingranaggi che ruotano o case che sporgono, insomma un po' quello... Vi ricordate la prima lezione che abbiamo fatto tre, quattro settimane fa in cui vi ho fatto vedere l'animazione di Game of Thrones, no? Quella è un'animazione appunto tipica in cui vengono animati degli oggetti, delle ruote, ingranaggi, case, eccetera. Ma le animazioni vengono fatte anche per animare gli avatar. Quindi quando... Quando l'avatar si muove, cammina, vola, eccetera, quella è un'animazione completa. Quindi le animazioni sono di due tipi fondamentalmente. Quelle semplici, tra virgolette, che sono semplicemente il registrare una posizione. Facciamo un esempio qui, vediamo un po' se riesco a costruire. Quindi l'animazione semplice, non so se vedete sullo zoom da me, che ho fatto un cubo. Ora, se io questo cubo lo metto lì e dico questo è il cubo al momento 0 e poi dico che il cubo al momento 1 lo sposto qua, lo sposto più a sinistra e quindi dico al momento 1 il cubo si trova qui. Ogni volta che io dico dove si trova il cubo, inserisco dei dati e questi dati sono chiamati un keyframe. Non so se avete mai sentito nominare. Un keyframe vuol dire una posizione di un oggetto in un determinato momento. Quindi praticamente le animazioni sono la successione di più keyframe. Quindi se io questo cubo, dico che all'inizio era posizionato qua, poi dopo un secondo si deve trovare qua e dopo un altro secondo si deve trovare qua in quest'altro punto, quando faccio l'animazione il cubo praticamente si metterà a muoversi linearmente dal primo keyframe, passa dal secondo keyframe e arriva al terzo keyframe. Quindi i keyframe sono la parte fondamentale delle animazioni. Mi seguite, sì, su questo concetto delle keyframe? Ok, allora, i keyframe in realtà possono registrare sia le posizioni del cubo, quindi qui inizialmente il cubo si trova alle coordinate x, y, z, però possono registrare anche qual è la rotazione del cubo. Quindi all'inizio magari il cubo potrebbe essere così e poi nel primo, nel secondo keyframe potrei dire che il cubo si mette a ruotare e quindi è ruotato anche lungo una direzione. E quindi quando registro la posizione del secondo keyframe registro sia la posizione del cubo che anche la sua rotazione, per dire che è cambiata la rotazione. E nella terza posizione il cubo, oltre ad essere ruotato, potrebbe anche essere scalato, nel senso che potrebbe diventare più grosso. Vedete? Adesso l'ho fatto più grosso. Quindi in questo caso il keyframe tiene conto sia della locazione che della rotazione che della scala, scale. Vi è chiaro questo concetto quindi del keyframe, cos'è? E il fatto che il keyframe può, diciamo, rappresentare delle posizioni, delle rotazioni, lo sto scrivendo adesso, ma anche di una scala dell'oggetto. Adesso magari proviamo a vedere un po' quali sono i problemi. Ovviamente come sempre succede, le cose non sono mai banali come uno se le immagina, ma comunque cercheremo adesso di riportarle. Ora, dicevo all'inizio, l'applicazione concreta dei keyframe, esistono gli script che li usano in OpenSIM, ma adesso in Second Life, da circa sei mesi, eccetera, hanno fatto un viewer particolare che usa le Animesh. Non so se le avete sentite nominare, le Animesh. Le Animesh sono sostanzialmente la possibilità di animare degli oggetti con delle animazioni come se fossero degli avatar. Non so se sapete che gli avatar, appunto come ho detto prima, possono camminare, ballare, fare un sacco di cose, e queste cose le possiamo fare adesso in Second Life anche con gli oggetti. Poi, ho chiesto prima, sto chiedendo a Liku, perché sembra che anche in OpenSIM arriveranno le Animesh, quindi se arrivassero le Animesh e funzionassero bene, queste cose che vi sto insegnando potrebbero essere utilizzate anche in OpenSIM. Adesso Liku Rao mi sta chiedendo animazioni su Blender. Gli sto chiedendo a Liku se per caso è su. Ah, ok. Comunque nel frattempo noi siamo tranquilli. Quindi, ricapitoliamo. Quindi le Animazioni sono sostanzialmente una successione di keyframe, quindi viene preso un oggetto e viene fotografato in determinati... Ah, dice che Edu3D è libera, quindi magari se vogliamo potremmo... Vabbè, magari adesso aspettiamo ancora un secondino che si sistemi, magari ci spostiamo per un attimo. Io comincio a fare... Ah, da circa otto minuti, dice. Quindi proviamo allora a spostarci direttamente in Edu3D. Ah no, dice che se siamo in una regione confinante è meglio. Perfetto. Allora... Allora stiamo... Ah, se siete in una regione confinante è meglio così avete caricato un po' di cache. Sì, quindi dovremmo poter andare effettivamente in Edu3D. Allora, magari senza tanta fretta cominciamo a spostarci in Edu3D. Facciamo un po' la migrazione. Qualcuno di voi ha detto che ci è riuscito ad andare, no? Cristiana. E proviamo a vedere se riusciamo a ritornare su... Nel frattempo questo cubo che ho messo lo cancelliamo. Rispostiamo, ok? Ok, quindi provo anch'io. Edu3D. Teleport. Ok, quindi effettivamente funziona. Dunque, aspettate che mi ha messo... Fiamo a vedere se riusciamo ad andare. Ok, allora mi sono spostato su Edu3D effettivamente. Quindi adesso c'è. Anche se non riesco a muovermi, sì. Vabbè, non si riesce a camminare. Andiamo un po'. Camminare, ma va bene anche così. Non preoccuparti. Allora, sentite, facciamo che... Ah no, adesso si cammina. Perfetto. Allora glielo dico perché... Bene, allora ripartiamo un po' da dove siamo arrivati. Ci siamo tutti, vi sentite? Comunque è importante che vi sentiate su Zoom. Ok? Quindi, allora sentite, io riprendo un attimo e quindi qui inizia le cose che magari potrebbero interessare a Anni e gli altri. Qui è solo una demo di quello che si può fare con le animazioni. Vedete che qui ho messo una... Susanna, sapete tutti chi è Susanna, che sarebbe la scimmietta di Blender. E gli ho messo un'animazione che, quando la lancio, praticamente fa ruotare Susanna attorno a una curva, che in questo caso è un cerchio. E mentre ruota gli faccio fare anche una seconda animazione che la fa andare su e giù con la testa, che gli fa dire sì. Non so se la vedete. Questo è un esempio di animazione che ho fatto prima. E che, oltretutto, ho anche provato a portare su Godot. Quindi su Godot vedete che è comparso, che l'animazione è arrivata. E l'animazione, una volta che l'ha fatta girare, vedete che fa esattamente la stessa cosa anche su Godot. Quindi l'idea, in prospettiva, è che questo tipo di animazione possano, prima o poi, anche essere portate anche su OpenSIM. Su Second Life sembra di sì, anche se non ho ancora provato. Ma, se venissero portate anche su OpenSIM, vuol dire che potreste usarle, sfruttarle, eventualmente, anche su Edmondo. Mi sentite ancora? Ah, e perché privateli? Perché ho fatto 2gbprof, quindi facciamo everyone. Ok. Scusate, avevo la chat privata. Quindi, ora ci siamo. Quindi, vi piace questa animazioncina che vi sto facendo intravedere della scimmietta che fa due animazioni in realtà. Quindi anima sia girando attorno a una curva e sia anche facendosi con la testa. Quindi l'obiettivo di questa lezione, adesso lo vedremo meglio tra poco, è quello di vedere i primordi di come si anima un oggetto, più o meno con la tecnica. Allora, le tecniche sono varie, quindi la tecnica dei keyframe è quella che vi ho accennato prima. Quindi come si anima quei keyframe? Lo vediamo partendo da zero. Quindi prendiamo Blender, questo, e cominciamo con fare New. Quindi partiamo da zero. Allora, quando partiamo da zero, abbiamo semplicemente un cubo. E di questo cubo, però, appunto, per renderlo un pochino più interessante, potremmo sostituire al cubo la famosa Susanna, che abbiamo visto prima. Quindi se noi facciamo X, quindi clicchiamo sul cubo, lo cancelliamo e poi aggiungiamo una mesh che è Monke, che è Susanna, vedete che si chiama proprio Susanna con la Z, abbiamo praticamente una scimmietta in mezzo alla nostra scena di Blender. Ora, animare questo oggetto vuol dire dire, settare i keyframe, la scimmietta sarà in determinati punti ogni momento. Quindi per dire, se noi vogliamo fare in modo tale che la scimmietta ruoti attorno a un centro, magari possiamo prendere la scimmietta e metterla, anzi possiamo vederla dall'alto, sette, quindi la vediamo dall'alto. Allora, per animare una parte della scimmietta occorre poi, beh, allora si può fare in diversi modi, comunque si, lo vediamo magari la prossima volta. Il rigging fa quello che dici tu, che anima delle parti molli della scimmia, ad esempio c'è le orecchie appunto le fa flettere attorno al capo, ma direi che per questa lezione di adesso soprassediamo un attimo sul rigging e su queste parti. Prendiamo la scimmia vista dall'alto, la selezioniamo, la spostiamo GY per spostarla magari un pochino qua e il nostro obiettivo è quello di fare tanti keyframe. Faremo un keyframe con la scimmia in questa posizione, poi faremo, che vedete che è sotto di 1, 2, 3, 4, 5, quindi, per dire, se voi vedete a fianco c'è scritto le coordinate dell'oggetto, in questo caso 0, 5 abbiamo detto, quindi magari possiamo mettere proprio 5 qua e quindi dire che la scimmia, magari meno 5, meno 5 la mettiamo lì. Quindi le coordinate iniziali sono locazione 0, meno 5, 0, rotazione 0, 0, 0 e scala 1, 1, 1. Questa è locazione rotazione scale. Quindi, quando iniziate Blender vi trovate implicitamente sul frame 1. Vedete che qui c'è una parentesi, aperta parentesi 1, chiusa parentesi. Ecco, quella parentesi lì indica il numero del frame in cui è posizionato Blender. Però, per inserire il frame, occorre premere proprio I. Quindi, dobbiamo fare I, premiamo la I, proprio la lettera I della tastiera, e poi lui ci chiede di indicare quale keyframe vogliamo mettere. E noi, magari mettiamo il keyframe più generico, quello che segna sia la location, che la rotation, che la scale. Se no, potremmo mettere soltanto la locazione e la rotazione, oppure solo la locazione. Visto che noi faremo sia muovere nello spazio che ruotare, il minimo dobbiamo mettere location e rotation. Se poi vogliamo che la scimmia si ingrandisce, magari, mentre fa l'animazione, dobbiamo mettere anche la scale. Mettiamo lock, rot e scale. E una volta che vi ho messo lock, rot e scale, compaiono questi tre rombi gialli. I rombi gialli, qui sulla destra, vedete che in giallo c'è scritto quali sono le cose che sono state registrate. Quindi in questo caso abbiamo registrato la location 0-5-0, no? Come posizione. La rotation è stata registrata 0-0-0, la scale 1-1-1. Dopodiché dobbiamo andare qualche frame più avanti, quindi possiamo spostare cliccando e andiamo al frame 10. E al frame 10 possiamo, che cosa? Prendere la nostra scimmia e spostarla in modo tale che sia magari qua. Quindi proviamo a vedere. Quindi location, allora la Y la mettiamo a 0, quindi vedete che si sposta lì. La X la mettiamo, proviamo a mettere meno 5 e l'abbiamo messa effettivamente dove la volevamo. E in più vogliamo che ruoti con la testa verso l'esterno, quindi dobbiamo ruotarla. I numeri sopra, Maria Sgro, quali numeri? Dei tempi questi? E te li trovi sotto in realtà. Oppure devi aver selezionato il tuo oggetto. E i tempi sono... Questa è la cosa di default, quindi quando si entra dovresti trovare proprio esattamente questa informazione. Io all'inizio, quando sono entrato, l'avevo trovato così per dire, ha dovuto alzarlo perché non si vedeva. E cos'è che ti manca? Non vedi quali? Questi numeri? Ma allora, se sono sotto non è importante, magari li hai... Ah, perché forse tu hai l'animation fatta così, qualcosa del genere, dove 0, 10, 20. Se per caso ho detto... Facciamo una cosa semplice, layout. Se tu non hai il frame 10, dovrebbe esserci un posto in cui tu puoi selezionarlo qua. Tipo qua, io posso mettere 5, ad esempio andare al frame 5. Qui c'è un posto dove c'è chiuso start, end. Ma il fatto che i numeri siano sotto sopra non dovrebbe essere un problema, l'importante è che riusciate poi ad andarci. Ma scusate, voi avete il layout qua? Può darsi che abbiate una versione diversa di Blender, perché magari li mette in una posizione leggermente diversa. Ma Object Mode l'avete sopra? No, ma adesso ho detto 5, ma in realtà mettiamo pure 10. Comunque l'importante è che riusciate a controllare la posizione del frame, quindi in modo tale che qui potete mettere 10. Ok? Che qui tra parentesi compaia 10. No, infatti non credo che la posizione dei numeri sia un problema. A parte che anche io volendo posso mettere i numeri sotto, volendo, perché io posso cliccare qua. Dove che era? Header, flip to bottom, così. Non so bene come faccia. Crash. Comunque il concetto è questo, che voi dovete trovarvi una sequenza di numeri qua. Ok, sono di maker, quindi facciamo gli header. Questa. Feader, flip to top. Ok, teniamolo qua. Magari se vuoi, l'importante è che abbiate comunque un posto, che a me compare qua, dove possiate scrivere effettivamente il numero del vostro frame. quindi io ad esempio non ce l'ho 5, però posso andare al frame 5 mettendo 5. Ma in realtà io voglio andare al frame 10, tipicamente voglio fare l'animazione, che dice che al decimo frame... facciamo una cosa, magari. Proviamo a usare la stessa versione della cosa, quindi abbiamo... dunque no, questo è il 279... quindi mi dite se cliccate qua, se vedete lo splash, io ho la versione dell'8 giugno, voi mi dite di che versione avete? Il blender? E tutta è diversa da questa... E tu che c'era il 6 giugno, anni, li trovi più o meno nello stesso posto di dove l'ho visti io? Comunque ragazzi, la cosa fondamentale è che per arrivare a gestire insomma, indipendentemente da dove ve li trovate, è capire che qui c'è un numero che indica il frame. Il numero che indica il frame, se lo trovate sopra o sotto non importa, comunque c'è un punto in cui potete controllare qual è il frame anche sotto e controllarlo. E mettete per esempio 10. L'importante è che sia un frame diverso dall'1. Poi... Poi dovete spostare la vostra scimmietta, che è questa, e la spostate in modo tale da metterla nel... Io adesso l'ho cliccata col G e poi l'ho messa più o meno qua, ma in realtà quello che volevo fare è di mettere la locazione meno 5, 0, e poi volevo ruotarlo lungo l'asse Z e questa la posso ottenere anche qua semplicemente cliccando su Rotate e poi posso ruotarla, vedete, in modo tale da farla... da farla girare, che vuol dire avere la rotazione meno 80... meno 90, scusate, meno 90 gradi. Vedete che è cambiata praticamente la locazione XY e la rotazione Z e a questo punto se avete messo 10... Comunque questi concetti valgono anche per prendere 2,79 tutto sommato. Eventualmente Maria Sgrove, prova a scaricarti... Maria Sgrove tre mani, prova a scaricarti l'ultima versione, magari non... non c'è questo difetto. Comunque la cosa fondamentale qua a questo punto è che avendola spostata a 90 gradi, vedete, quindi Z meno 90, XY meno 5, 0, la scimmietta è spostata e ruotata e a questo punto posso fare un I e posso fare un Lock Rot Scale, inserisco un secondo keyframe. Poi vado a questo punto nella 20, che è questo. Quindi vado nel 20. Ah, bene. Allora, qui faccio lo stesso mestiere, nel senso che mi sposto questo, lo metto più o meno dove lo voglio mettere. Qui controllo al millesimo esattamente dove è messo, quindi 5. Z invece che meno 90 gli mettiamo... proviamo con 180, vedete quindi che si è messo la scimmia praticamente ruota dalla parte opposta e poi qua faccio di nuovo I per dire Lock Rotation Scale, quindi la scimmia a questo punto è messa, quindi adesso si è ruotata verso l'esterno. A questo punto capirete che il prossimo mestiere è quello di andare al frame 29, in realtà 30, e nel frame 30 facciamo facciamo G. Ecco, lì va fatta proprio la fine quando avete impostato tutti i dati, quindi la mettiamo al 30 e qui gli mettiamo 5, 0, 180, no, rotazione in realtà lo giriamo, quindi qui facciamo rotazione e giriamo di così, che vuol dire mettere Z a 90, e qui a questo punto facciamo di nuovo un I, LOCK Rot Scale, e poi l'ultima posizione che sarebbe questa, da cui siamo partiti, la, beh, possiamo fare di nuovo come sopra, quindi facciamo 40, lo spostiamo più o meno qua sotto, e facciamo lo stesso trucco, quindi facciamo 0, meno 5, e poi qua dobbiamo rimettere 0, credo, la rotazione lunga l'asse Z, 0, ok, e poi facciamo ancora I, I LOCK Rot Scale, e così abbiamo fatto tutte le animazioni che ci interessavano, per vedere se funzionano, basta cliccare qua, e poi provare a trascinare, che in realtà qui fa un po' di scherzetti, si muove un pochino, non nel modo che avevo previsto, dunque proviamo a farla in modo ancora più semplice così, quindi questa è la prima frame, che ha 0, meno 5, 0, 0, 0, 0, per passare da un keyframe all'altro, basta cliccare qua, andiamo sul secondo frame, quindi qui abbiamo meno 5, 90, quindi non ho capito proprio bene che, no, questo qui l'ha fatto bene, quindi qui il primo pezzo l'ha fatto giusto, ok, e poi qui che sta ruotando nella direzione opposta, probabilmente qui la cosa che sgarra, è che qui invece di 180, apriamo a mettergli meno 180, e gli rifacciamo la i lock rot scale, vediamo un po' se adesso è funzionato meglio, sì, direi di sì, quindi vedete che adesso si ruota, ecco, però qui è sbagliata, allora qui praticamente abbiamo questo keyframe, dove invece che 90, credo che sia 270, quello giusto, quindi qui bisogna fare attenzione agli angoli, altrimenti lui prende degli angoli, no, allora qui siamo passati praticamente da meno 180, forse meno 270, dobbiamo fare, mettiamo meno 270, gli mettiamo il lock rot scala, e vediamo un po' se è così, ok, questo qui va bene, questo qui invece è sbagliato all'ultima rotazione, all'ultima rotazione, prima metto gli rotazioni, inizio che 0 facciamo 360, il lock rot scale, vediamo un po' se ce l'abbiamo fatta, no, qui vi ho detto che stiamo dando meno 253, meno 48, in realtà sta cosa qua mi distorbe un po', perché avrei dovuto farlo, quindi meno 204, dobbiamo fare meno 1 giusto per capire se, qui facciamo, no, provo a metterci 1, vabbè, questa animazione qua non viene un granché bene, a meno 360, grazie, proviamo a mettere meno 360 gradi, vediamo se questo è il trucco, quindi stiamo, direi di sì, ok, quindi adesso abbiamo fatto tutta la rotazione, che dovrebbe andare bene, qui c'è una piccola cosa che sgarra, no, 0,0, meno 360, ok, allora a questo punto, l'altra cosa, sì, sì, spostate, a questo punto direi che lo spostate a mano, e fate prima, comunque l'importante è che sappiate, e che quello che è importante, sono come mettete questi punti, dopodiché, visto che l'animazione a questo punto dura 40 scatti, qui nell'animazione ne mettete l'inizio 1, e la fine 40, per dire che inizia da 1, e va a 40, quindi facendo in questo modo, se poi fate partire l'animazione, e praticamente fa tutto il giro, vedete che appare la scimmietta che gira, ah sì, probabilmente bisognava farlo girare in senso anti-orario, che veniva più naturale, ok, l'unica cosa che vedete, quando fa questa animazione in cui gira, in senso, eccetera, quando arriva all'estremità, si ferma un attimo, e poi riparte, questo, visto che può essere corretto, semplicemente andando sul pause, e mettendo, tasto destro, interpolation mode, linear, se si mette linear, dovrebbe muoversi, in maniera, diciamo, un pochino più, ecco, la cosa che purtroppo è così, ciclico, l'ho semplicemente detto, di, lo start 1, alla fine 40, ok, comunque, se prendiamo, nell'esempio, in una del, in una delle, dei corsi che ho fatto, si, torno al punto di partenza, però dovete fare in modo tale, che l'ultima posizione, sia esattamente identica, al punto di partenza, ecco, purtroppo facendo così, lui anima però, anima per quello che riesce, quindi come vedete, ad esempio, fra questo punto, e questo punto, lui si muove in diagonale, quindi, per evitare questo movimento in diagonale, si potrebbe, infatti, se lo vedete, forse meglio, facendo così, vedete che lui, segue la diagonale, perché lui capisce, che deve, che deve fare, praticamente, deve arrivare, da un, da un keyframe all'altro, e cerca di farlo, nel, nel modo più, più, semplice, dal suo punto di vista possibile, che però vuol dire, che non sta, percorrendo il cerchio, ma sta, facendo praticamente, un quadrato, volendo, voi potreste creare, in mezzo, delle altri frame, per, 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 costruire, una traiettoria circolare, giusto? In realtà, però, c'è un, il sistema, che avevo fatto vedere all'inizio, in cui, la, 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 la scimmia, praticamente, seguiva, una traiettoria circolare, era stata tenuta, con un metodo, leggermente diverso, e questo metodo, era quello, di disegnare, allora, più frame, lo rende fluido, però, è più difficile, per voi farlo, ma, in realtà, c'è un trucco, che è quello, di costruire, una traiettoria circolare, e poi, di dirgli, alla, alla scimmia, di seguire, quella traiettoria, questo metodo, allora, qui, magari, facciamo, new, quindi, partiamo da zero, facciamo, discard changes, ripartiamo, da zero, quindi, con, il nostro cubo, e proviamo, invece, allora, facciamo x, cancelliamo il cubo, aggiungiamo, la scimmia, quindi, questa, ok, e, in realtà, facciamo, aggiungiamo, ancora, una curva, e, tra le curve possibili, c'è anche un cerchio, e noi possiamo costruire, sì, un cerchio, facciamo un cerchio, quindi, abbiamo questo cerchio, che si costruisce, questo cerchio, lo possiamo fare, largo, ho fatto s, no, lo allarghiamo, e, a questo punto, possiamo dire, alla scimmia, di seguire questo percorso, quindi, possiamo prendere, vediamo un po' se mi riesce, perché l'ho fatto prima, ma vediamo se mi funziona ancora, possiamo selezionare, intanto, avendo selezionato la curva, qui, c'è, compare, la, c'è, qui c'è il simbolo della curva, quando avete la curva, e qui c'è scritto path animation, vuol dire che, di default, la curva è già, può essere usata per fare delle animazioni, ma voi potete, scegliere, cliccare, prima sul vostro oggetto, che è il, la scimmia, poi shift, e cliccate sulla curva, quindi selezionandole tutte e due, e poi si possono, linkare assieme, facendo ctrl p, ctrl p, c'è la possibilità, di dirgli, follow path, quando si fa il follow path, in teoria, vedete che, la, la, la cosa sta, seguendo la curva, però adesso, è al centro, quindi non si vede molto, quindi mettiamola al frame 1, e, spostiamo, quindi vediamo dall'alto, e poi facciamo G, Y, no, selezioniamo solo la, la, la scimmia, G, Y, per spostarla, un po' più in basso, mettiamola magari, no, vabbè, teniamola così, no, volevo ruotarla leggermente, perché era leggermente storta, quindi mettiamola più o meno dritta, qua, ok, quindi adesso, se facciamo il play, vedete che, avendola spostata, la nostra scimmia segue, fedelmente, la, la, il cerchio, però vedete che, il, la curva, il path, va soltanto, fino a 100, mentre invece l'animazione va di default a 250, quindi per ottenere l'animazione completa, basta mettere il limite a 100, tornare qua, e a questo punto si ottiene un'animazione che è, diciamo, molto più semplice da gestire, forse un pochino più complicata da costruire, volete che, lo faccio rivedere come si fa, come si fa a far percorrere una curva, sì, quindi io, per semplicità, di tutti, riparto da zero, così rivedete i passi di nuovo da zero, poi comunque ovviamente il video rimane, quindi potete, potete rivederlo, e direi che, questo, questo metodo, può essere utilizzato anche per fare sistemi solari, o cose del genere, e la curva potrebbe anche essere un'ellisse, infatti magari possiamo fare, anche un'ellisse al posto della curva, questo è molto molto semplice, allora facciamo così, facciamo un new, quindi ripartiamo di nuovo da zero, discard changes, e purtroppo non sono capace di fare le stesse cose, due volte uguali, quindi mi perdonate, lui più è esterno, e più cerca di seguirlo, quando è al centro della circonferenza, avete visto che si limita solo a girare, senza seguire la circonferenza, quindi abbiamo dovuto spostarlo un pochino, quindi allora riprendiamo questo, cancelliamo e gli creiamo una mesh, e gli creiamo sempre il monkey famoso, ok, poi qua abbiamo detto, aggiungiamo una curva, e la curva facciamo un cerchio, questo cerchio lo allarghiamo, ecco, ora se questo cerchio andiamo in edit mode, che vuol dire edit, vedete che compaiono queste maniglie, queste maniglie servono per modificare il cerchio, in modo da produrre eventualmente un ellisse, ad esempio qui, quella cosa lì, per i due cerchi su cui muovere, è un altro paio di maniche, quindi non ci provo neanche a rispondere, non lo so. Adesso proviamo a spostare questa maniglia, vedete che ho cliccato, l'è diventata aranciata, quindi faccio GX, perché la sposto, e vedete che spostandole viene generata un ellisse. Così abbiamo generato un ellisse, e come vedete, oltretutto, la nostra cimietta, credo che sia più o meno al centro, in uno dei due fuochi dell'ellisse. Ok, a questo punto andiamo in nuovo, quindi abbiamo questa ellisse, prendiamo il nostro, nostra scimmia, la selezioniamo con shift, poi facciamo, cioè la selezioniamo con il tasto sinistro, poi shift, selezioniamo l'ellisse, scusate, ctrl-p, facciamo follow path, e proviamo a vedere adesso cosa è venuto fuori, quindi vedete che si muove, però si muove in maniera che non è quella forse che volevamo fare. Proviamo a vedere, tra l'altro sto sperimentando anch'io anche in questo momento, è un po' come funziona, quindi proviamo a spostare leggermente la nostra cimietta, quindi facciamo GY, no, scusa, selezioniamo solo la scimmietta, GY, la spostiamo qua magari, e la ruotiamo un pochino, vediamo un po' se, così cosa fa. Vabbè, sto andando di là, se no, ecco, vedete, è anche meglio di quello come me l'aspettassi, però vedete che dobbiamo limitare a 100. Ok, in questo modo abbiamo, in questo modo andiamo all'inizio e facciamo la nostra, la nostra scimmietta che fa proprio l'ellisse. Ok? Mi piace questa cosa? Ecco, tra parentesi, questo è un modo di fare le cose, in OpenSim, se io avessi voluto, se io avessi voluto fare questa cosa su OpenSim, sarei diventato matto, infatti l'ho anche fatto qualche anno fa, in Edmondo, però le animazioni in Edmondo erano molto elementari, e quindi questa cosa diventava una cosa che ci aveva impiegato un sacco di tempo, con dei risultati molto scadenti. ok. Allora, solo una cosa c'è da dire prima che vi abbandoni, cioè prima che passiamo eventualmente altre cose, facendo così non è esportabile ancora in collada, perché? Perché quello che noi abbiamo adesso è una cosa che fa vedere solo Blender, ma se la esportiamo in collada non viene riconosciuta dal nostro amico Godot, oppure dalle animazioni su iFidelity, eccetera, e probabilmente neanche da Sketchfab. l'unico modo per farglielo riconoscere è fare un'operazione che ha un nome che vi dovrebbe risultare familiare, che si chiama, vediamo se lo indovinate, backing, oppure pre-calcolo. Altro backing a volte c'è. Allora, si può fare il backing, cioè il backing in questo caso, il backing di un'animazione, vuol dire calcolare tutti i punti intermedi, in modo tale che poi l'export collada, lo possa esportare verso i vari programmi o videogame o second life o pensime, eccetera. Quindi come si fa a fare il backing di queste cose? E qui bisogna selezionare il nostro oggetto, che è la nostra Susanna, e poi qui ci dovrebbe essere, ecco qua, abbiamo questo simbolo dove c'è il quadrato, questo quadratino aranciato, e se guardate c'è un'opzione che si chiama Motion Paths, sì, anche in FBX, sì, sì. Quindi in questo Motion Paths gli dite da quale frame fare il backing, noi ovviamente gli siamo da 1 a 100, e poi, qui non lo fa vedere, aspettate, ok? E poi c'è questo Calculate. Allora, se voi premete questo Calculate, quello che succede quando fate ok, è che lui computa tutti i punti intermedi. Non so se lo vedete sullo schermo. E lui computa tutti questi punti intermedi, e quindi a questo punto lui è in grado, quando esporta, di esportare tutti i punti intermedi, e quindi questo diventa compatibile con iFidelity, con Sensor, e via discorrendo, quando si esporta il tutto. se non si fa questa operazione, sì, sì, non si vedono queste cose qua. Quindi se voi andate qua, no, vabbè, qui in realtà non... Cioè, qui si vede in Blender perché lo state praticamente producendo, fa vedere tutti i punti, ma quando andate su OpenSIM, eccetera, rimarrà solo l'oggetto che viene esportato. Infatti, non so se avete fatto caso, io ho fatto il backing prima, e il risultato finale era stato questo. Guardate qua. Vedete che... Qui in questo caso avevo messo due animazioni insieme, che è simile a quello che abbiamo visto. Adesso, la somma delle due animazioni per stasera ve la risparmio. Tanto probabilmente voi farete... Ah no, se volete fare il pianeta, volete farlo... Potete fare il pianeta che ruota attorno a se stesso, che poi ruota attorno a... Comunque qua i punti non si vedono, ma in realtà vengono esportati. Cioè, praticamente, vedete, i punti sono questi qua. Tutti i punti che ho esportato sono questi oggettini qua. Quindi una cosa che, volendo, si potrebbe fare, modificare la velocità in che senso? Che è troppo lento o troppo veloce? Ma allora, la velocità viene controllata da... Dunque, vediamo un po'. Da qua, lui adesso ha questa velocità. c'è un sistema per cambiare la velocità. Adesso non mi viene direttamente. Comunque volendo, si può anche andare sul... Sapete che... Dovrebbe esserci un'opzione qua che permette la velocità. No. Probabilmente per cambiare... Aspetta, playback, vediamo un attimo. No. 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 Lo guardo poi con calma. L'orologio a sinistra? No. Questo indica che semplicemente questo qui è al timeline, non dice altre cose. Comunque, allora, c'è un sistema per cambiare la velocità, ma si può anche cambiare la velocità lavorando sull'animation. Adesso qui, come avete visto, abbiamo lavorato su un layout che non è adatto per l'animazione. In realtà, quando si fanno le animazioni, si dovrebbe lavorare con questo layout che si chiama animation. Finora ve l'ho risparmiato giusto per concentrarvi sui concetti. Quindi, prima di andare sull'animation... 92... 92 è il vostro frame corrente. Proviamo a vedere invece andando sull'animation. Se cliccate su animation, vedete che vi cambiano un po' di cose. però questa è un'animation un pochino più complicata, quindi questo non lo possiamo fare. No, devo... Perché questa in realtà è un'animation che è stata ottenuta con questo baking. Niente, me lo guardo un attimo per la prossima volta. Magari è una cosa che potrei cercare di fare e di farvi un'animazione completa dove ci sia un pianeta che gira attorno al Sole e con magari anche che lui ruota e magari abbia anche la Luna che gli gira attorno. Però non ci ho ancora dedicato un po' di tempo. Cosa vi sembrerebbe di farlo in questo modo? Sì. Comunque, anche questa cosa qua del fatto di farlo girare attorno a un percorso è già un argomento avanzato che ho fatto per farvi vedere dove si può arrivare. Però a me interessa che voi capiate l'animazione proprio più semplice, quelle che possono servire per semplicemente muovere un oggetto da una posizione all'altra. quindi per farlo quindi facciamo una cosa quindi facciamo uno new e facciamo un esempio molto molto più semplice e teniamo il cubo questa volta il baking era sì, sì, ci muoviamo allora rifacciamo l'animazione ma con questo cubo a me così rivediamo per un'altra volta questo concetto che effettivamente merita di essere visto con molto la cosa supponiamo di voler fare muovere questo cubo lungo un'ellisse come vi ho visto prima o un cerchio prendiamo il cerchio giusto? così facciamo tutto più semplice quindi rifacciamo tutto così vediamo un'ennesima volta come si fa allora prendiamo un cerchio facciamo S per ampliare il cerchio ok e poi prendiamo il nostro cubo click e shift click click la circonferenza ctrl p follow path poi facendo così abbiamo visto che bisogna mettere 100 perché lui lo fa tipicamente da 100 e poi spostiamo il nostro cubo in modo tale che sia aderente alla circonferenza quindi lo spostiamo g y no sbaglio sempre facciamo in modo tale che sia selezionato solo il cubo g y e me lo sposto qua ok quindi adesso se tutto va bene lui il cubo praticamente fa quello che faceva la scimmietta no? fin qui ci siete giusto? ok ora lo rimettiamo al momento iniziale e rifacciamo il backing e rifacciamo il backing allora il backing l'ho fatto molto semplicemente qui ho selezionato questo 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 quadrato aranciato mi sono spostato qui dove dice motion paths e qui gli dico da 1 a 100 e poi faccio calculate facendo calculate mi chiede di nuovo lo start land e a questo punto ha fatto questo mestiere quindi sono andato tutto con il con il con queste quattro cose il motion path lo trovi qua sotto il mappamondo e peraltro quello che volevo dirvi anche su blender 279 c'era una cosa molto simile ma io mi perdevo molto di più nel senso che qua mi sembra che sia molto più naturale nel senso che lo trovo abbastanza subito no? il motion path che comunque il motion path è perché questo in termini tecnico l'avevi chiamato path sentiero e il motion path vuol dire che il movimento è lungo i sentieri adesso poi mi approfondirò per magari su facebook ve lo scrivo come fare per cambiare velocità eventualmente per mettere più di un motion path per fare appunto quei sistemi solari luna insomma per chi gli interessa ecco l'ultimo pezzo invece consiste è certo allora il senso di questa settimana è di insegnarvi a prendere qualunque oggetto DAE qualunque oggetto BJ eventualmente farlo muovere o specificando di volta in volta le varie posizioni in cui volete che sia oppure nel caso che siano delle cose un po' complicate come girare attorno delle curve fare il backing delle curve per ottenere un effetto smooth cioè un effetto molto liscio non mi ricordo chi è ah si era Annie che voleva far muovere gli scacchi in maniera liscia quindi lei può farsi delle curve e far seguire al pedone o al cavallo una curva in modo tale da farlo girare in maniera ecco l'export dovete fare molta attenzione quando fate l'export a specificare che volete esportare l'animazione quindi l'animazione ad esempio io ho visto ultimamente che in questo caso l'export collada funziona abbastanza benino nel senso che si esporta con file export poi si innanzitutto dovete avere pure di aver selezionato il vostro oggetto e poi fate file export collada ad esempio e quando fate l'export collada mettete selection only ma soprattutto vi accertate che ci siano le animazioni e è possibile che ci sia qualche 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 opzione che da specificare adesso la vedrò meglio e vi farò vedere poi le quali sono le opzioni esatte per ottenere questo effetto quindi magari se ce la esportiamo il rischio potrebbe essere che se la portiamo su Godot non prenda l'animazione però ci proviamo lo stesso quindi se qui facciamo a samples così proviamo a esportarlo con l'ada quindi quindi facciamo sotto blender facciamo export collada facciamo export collada include animation main selection only e lo esportiamo magari qui chiamiamo corso punto dae sotto blender magari corso dae sotto blender e poi vediamo se funziona non garantisco nulla perché queste cose le ho provate prima ma a volte possono essere un po' frustranti quindi anche io sto imparando con voi a gestirle bene nel senso che copiamo queste le mettiamo sotto Godot in colla che è corso dae poi proviamo a vedere se Godot ce lo prende corso dae vediamo se ce l'ha preso allora il cubo è arrivato l'animazione però non l'ha presa perfetto non ha preso l'animazione quindi questo me lo devo studiare un attimino l'export ancora in modo tale che prenda bene l'animazione però diciamo per adesso è interessante che vediamo che abbiamo visto insomma le basi per farlo animare ok quindi direi che potete esercitarvi a far muovere un oggetto lungo delle curve tanto le curve possono essere sia delle curve fatte così ma anche dei path qualunque quindi io potrei anche vediamo un po' guardate il sketch fab funziona mi dice perfetto ma dandogli impasto che cosa è con l'ADA ovviamente questo è Eva che sto usando il mio account ah FBX esportandolo FBX solo che purtroppo l'FBX non viene visto da 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 Godot almeno non ancora spero che entro l'anno mettono il Godot che prenda anche l'FBX però può darsi che funzioni anche con opportune opzioni che vengono date in fase di export quello è tutta l'intelligenza la sofisticazione che si può dare dicevo oltre a farlo andare lungo un percorso di questo tipo si può fare un percorso fatto come si vuole nel senso che potrei fare facciamo ognuno e rifacciamo di nuovo tutto il giro quindi prendiamo questo cubo e gli aggiungiamo una curva e un path il path che è questo qua andando in edit vedete che il path compare questa freccia vedete che va in questa direzione e poi posso selezionare un estremo e estenderlo lo estendo vedete che viene una specie di curva di benzea nel senso che io lo estendo per fargli fare premo sempre e clic e gli faccio fare un percorso complicato a piacere tra l'altro come vedete lui cerca di renderla tutto molto quindi se io faccio per dire ne faccio addirittura avvitare qua ok quindi ho fatto questo path che praticamente comincia da lì dove c'è il cubo e lo fa tutto questo giro fino ad avvitarsi a un certo punto in un certo momento a questo punto torno in vedete che c'è il cubo più questa curva che abbiamo fatto a piacimento clicco sul cubo shift la curva ctrl p follow path e a questo punto se faccio il play vedete che il cubo serve segue la curva che gli abbiamo messo ovviamente anche questa è fatta fino a 100 e quindi lo rifacciamo un attimo così ok e quindi in questo caso riparte sempre da zero e fa tutto il giro seguendo la curva quindi come vedete posso fargli fare un percorso arbitrario ah una cosa mi state scrivendo sì una cosa che è interessante che adesso ho fatto fare percorrere al cubo un percorso ma lo dico per Gianfranco se invece di fargli fare ti fargli fare al cubo il percorso glielo faccio fare la telecamera quindi per dire se io avessi detto questa telecamera e poi imparentavo la telecamera con il percorso e facevo ctrl p follow path allora è la telecamera a questo punto che seguiva il percorso infatti se vedete vedete che la telecamera segue anche lei il percorso adesso qui è un po' incasinata perché la sta seguendo in un modo un po' particolare ma comunque la telecamera segue quel percorso ed è il modo in cui si fa per per rendere forse per renderla giusta bisogna prendere la telecamera e farla andare esattamente vicino all'inizio del percorso quindi praticamente vedete che qui la telecamera è imparentata con quella Z ok selezioniamo solo la telecamera e cerchiamo di fare in modo tale che la telecamera si metta praticamente all'inizio cioè coincida più o meno dove c'è l'inizio del percorso a questo punto secondo me dovrebbe ecco la telecamera vedete che in questo momento sta girando esattamente come sta girando il cubo ma questo vuol dire che se fate il rendering il rendering praticamente prende la telecamera come 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 elemento di rendering segue poi anche fisicamente la cosa quindi si possono fare delle telecamere che fanno che vanno vanno a viaggiare in un certo ambiente e quindi si muovono all'interno dell'ambiente Luca adesso in questo caso come l'ho fatto io è una schifezza perché praticamente la telecamera diventa praticamente in questo caso diventerebbe solidale con il cubo e supponete che qui ci sia una città che adesso non c'è e se gli faccio fare un giro praticamente faccio volare la telecamera all'interno della città e poi quando si fanno le riprese la telecamera riprende esattamente come se si stesse muovendo all'interno della 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 città magari poi facciamo faccio poi sì sì ma magari facciamo poi un esempio e solo solo detto per perché mi ricordo che qualche mese fa Gianfranco aveva forse era anche riuscito a farlo questo mestiere di far girare una telecamera in modo tale da ottenere un video però il concetto che si era seguito è una cosa di questo tipo c'è la telecamera e ci dice seguire un certo percorso e poi si riprende la ripresa e viene fatta facendo un rendering opportuno il rendering viene fatto attraverso scattate se riesco questo è il rendering ma andiamo sul layout c'è invece proprio un'opzione di rendering e poi c'è un'opzione che fa rendering che adesso non mi sono preparato ma ve la faccio eventualmente poi vedere nelle lezioni successive comunque direi come base il fatto di capire che abbiamo ma dunque fermarlo da solo il quando fate un'animazione gli dite da dove inizia e dove finisce e poi qui in questo caso lui va avanti all'infinito ma normalmente se fate un'animazione lui parte da uno arriva fino in fondo e si ferma quindi quello è il film cioè non è che cioè voi gli programmate proprio quando inizia e quando finisce adesso qui lo ripeto sempre perché solo per farvi vedere come farebbe qua in fase di in fase diciamo di progetto vi fa la ripetizione perché voi abbiate sempre un'idea di quello che sta facendo comunque come vedete le prospettive sono infinite dicevo la cosa base su cui partire sono i keyframe e i keyframe in questo caso sono anche qui stesso discorso prima se volete fare il backing dei keyframe andate di nuovo qui fate motion paths e fate anche qui nell'insieme 100 calculate e avete i keyframe fatti sul cubo però in questo caso ci sono dei keyframe anche associati alla telecamera quindi dovreste fare la stessa cosa anche per la telecamera quindi calcolare anche i keyframe per la telecamera vedete che qui vi ho calcolato due sequenze di keyframe una per una per il cubo e una per la telecamera quindi sono due movimenti separati comunque vi prometto che approfondisco in modo tale da avere come minimo quell'esempio del sistema solare che fin da quando ero bambino volevo fare e poi eventualmente anche altre cose del genere e soprattutto la cosa che magari può aiutarmi Eva se c'ha voglia e poi una volta fatte alcuni di questi esempietti riuscire poi a portarli in Sketchfab in modo tale di avere dell'animazione degna di tale nome ok quindi io direi se non avete ma l'astronauta che salta in realtà lì parliamo di rigging e quindi non è già le cose è un altro è il secondo tipo di animazione che abbiamo che abbiamo detto qui adesso abbiamo fatto l'animazione per keyframe invece il rigging è un modo Dante non funziona nel senso che si ferma allora poi lo vediamo passami il progettino magari piccolo che lo proviamo a vedere un attimo è fatto uno script vero? passamelo pure che gli do eh ma il mio in teoria doveva mettere il loop comunque se non lo fa al limite si ricopia l'animazione in un altro animation player però io ero riuscito a farlo funzionare anche con l'animation player di base quindi tu passami tu passami magari comunque il Dante e vediamo adesso tra l'altro io adesso non so se sapete questa settimana da cambio lavoro finalmente dopo tre mesi di pena e quindi spero di avere anche un pochino più tempo più tranquillità per per seguire anche queste cose va bene allora questa registrazione la stopperei così abbiamo fatto leggermente più corta del solito però spero che vi sia piaciuta la registrazione dovrebbe essere disponibile fra un 20 minuti e ci sentiamo sul forum di Facebook e comunque vediamo di andare avanti quindi buona serata a tutti